via libera dal consiglio regionale alla legge sui rider primo caso del genere in italia tra le regole introdotte la redazione di un documento sui rischi mazzeo è una grande vittoria cancellato dall'assemblea toscana l'emendamento della legge 32 relativa agli scarichi industriali la norma è finita al centro dell'inchiesta che ho e ha dato là anche la commissione d'inchiesta regionale sulle infiltrazioni mafiosi la toscana fa scuola il consiglio regionale approvata maggioranza con la sola astensione della lega la cosiddetta legge sui rider primo esempio del genere in italia l'atto che oltre al presidente regionale antonio mazzeo ha visto come primo firmatario anche diego petrucci di fratelli d'italia prevede la redazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi che la giunta approva con apposita delibera come base per impostare le forme di tutela necessarie tra queste anche la formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro con particolare attenzione al codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato le imprese dovranno inoltre fornire dispositivi di sicurezza abbigliamento consono allo svolgimento delle prestazioni tenendo conto di turni notturni e condizioni atmosferiche avverse si dovrà inoltre promuovere l'istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori a prescindere dalla tipologia del contratto sottoscritto il monitoraggio e il controllo anche a fini della prevenzione saranno svolti da servizi prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle aziende unità sanitarie locali è una vittoria importante che era stato uno dei punti di partenza di questa legislatura affermato mazzeo entusiasta per quanto espresso dall'assemblea anche il presidente regionale e eugenio gianni anzitutto consentitemi di dire che sono orgoglioso e anche un po' emozionato perché il giorno in cui fui eletto presidente del consiglio regionale dissi che uno dei compiti principali dell'assemblea legislativa era cercare di dare voce a chi aveva meno voce e oggi dietro un rider o dietro un fattorino di amazon non ci deve essere un algoritmo come spesso viene rappresentato ma c'è una persona c'è un lavoratore e come tale deve avere diritti più diritti rispetto a quelli che aveva oggi a partire da quelli basilari come penso la salute e la sicurezza sul lavoro io sono orgoglioso che la toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo una legge che dà più formazione più tutele più sicurezza nel mondo del lavoro che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle asle facciano maggiori controlli in maniera più serrata che imponga alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro che dia a questi ragazzi a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione sia giorno notte pioggia o sole e non è così non è scontato noi troppo spesso diamo per scontato e tante cose in realtà questa oggi è una legge di grande dignità e un passo avanti non so quanto grande o quanto piccolo ma è un passo avanti rispetto alla tutela del lavoro e chi si impegna nelle istituzioni dovrebbe porla sempre al primo posto ora su questo lavoreremo insieme alla giunta per dare attuazione per dare risposte concrete e mi piacerebbe che questa legge potesse diventare un modello non solo in toscana ma in tutte le altre regioni d'italia perché ogni lavoratore che lavori in toscana o lavori in un'altra regione deve avere gli stessi diritti noi abbiamo fatto la nostra parte e ringrazio tutte le colleghe e tutti i colleghi per averci creduto e averci lavorato ringrazio i tanti rider che ho incontrato in queste settimane in questi mesi e ringrazio le associazioni sindacali anche quelle che avevano qualche parere un po' differente rispetto al mio era essenziale dare questo segnale sono orgoglioso di essere presidente di una regione che approva una legge che ha queste caratteristiche in un momento in cui l'attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle modalità di lavoro anche in un lavoro che si evolve che quindi vede la tecnologia farla sempre più da padrone riesce a dare tutela e maggiori condizioni di sicurezza lo abbiamo detto anche in occasione di quel momento drammatico che rimarrà scolpito nella mia vita quando ci siamo trovati di fronte all'ennesimo fatto accaduto in una fabbrica tessile nel comune di montemurlo che ha spezzato la vita a una giovane ragazza ecco la sicurezza è la condizione essenziale e noi costruiremo un sistema di leggi e di supporti economici per poter sostenere con ispettori la garanzia e il controllo in materia di sicurezza del lavoro e quella di oggi la legge oggi approvata un'ulteriore tappa in questo in questa sorta di avanguardia che la regione toscana sta avendo proprio nel ammodernamento del suo sistema legislativo ma anche nelle azioni concrete per arrivare a questo obiettivo tra le file della maggioranza i toni sulla legge sono stati enfatici le garanzie che vengono date a lavoratori con questa norma sono importanti ha sottolineato enrico sostegni del pd stefano scaramelli italia viva ha invece parlato di legge innovativa augurandosi che quanto avvenuto in toscana possa ripetersi anche nel resto del paese noi con questa legge operiamo nell'ambito della nostra competenza in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di salute pubblica nel momento in cui il lavoro si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico con questa norma che ripeto rientra in queste competenze e che nonostante appunto c'è stata un po di discussione in commissione ma è chiaro e pacifico sia perché lo dice la norma nazionale sia perché ci sono interpretazioni giurisprudenziali che sono sopraggiunte che la normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma che prevede che si elabori un documento tecnico che vada a analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro individui come si fa a prevenirli quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori qual è il livello di formazione che deve essere fatto qual è il livello di tutela sanitaria e prevede altresì che si favorisca la realizzazione la nomina l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza che sono previsti dalla normativa nazionale ma troppo spesso non applicati e non concretizzati in questo tipo di lavoro quindi aumentiamo questa parte di tutela e prevediamo poi che il sistema di prevenzione delle aziende sanitarie facciano controlli ovviamente in un'ottica essenzialmente di prevenzione del rischio ma anche poi controlli sul preciso rispetto di queste normative abbiamo votato a favore abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti istituire dei principi che possano dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano che hanno delle opportunità a saltuare di lavoro ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita soprattutto nel momento come questo dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano a mio avviso deve essere colta in termini molto positivi una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale nell'opposizione le sfumature sono differenti Diego Ulmi della Lega ha motivato l'astenzione spiegando che il documento porta solo orpelli burocratici senza modificare lo stato delle cose per Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia la normativa è importante per dare maggiori tutele a chi non ne ha ma il ha voluto precisare che la precarietà di queste figure resta tale perché cambiare le cose spetta al governo Ilaria Galletti del Movimento 5 Stelle ha infine espresso il sostegno all'atto perché le disuguaglianze tra i lavoratori sono sempre più crescenti ci siamo astenuti ci siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi ma questa legge mi sembra che sia distante dalle istanze della della gente comune cioè aggrava soltanto un una situazione di orpelli burocratici dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una categoria di persone che fa della flessibilità una dei motivi per cui questa piattaforma digitale dovrebbe essere attivata io credo che si parla tra l'altro di stress da consegne ora se qualcuno deve avere lo stress da consegne sono per esempio i camionisti non certo i rider che devono portare una pizza oppure devono fare dei corsi di comportamento stradale ma vi rendete conto chi deve avere a un certo momento il la patente perché c'è il motorino o la o la macchina ovviamente già l'ha fatto chi deve andare in bicicletta lo facciamo per tutti oppure è inutile che si debba fare corsi di questo genere io credo che ci sia una l'ennesima distacco tra le cose che facciamo nel palazzo e le cose che facciamo invece nella vita normale sui rider va fatta una precisazione perché è doverosa perché anche tanti ragazzi che svolgono questa professione ce lo chiedono la regione toscana con la legge che abbiamo votato oggi non trasforma la figura del rider in un lavoratore subordinato questo è ovviamente un qualcosa che spetta alla normativa nazionale la regione toscana oggi fa soltanto un passo che sia piccolo grande lo scopriremo col tempo e con i risultati nella tutela della salute della sicurezza di chi svolge questo lavoro ci ammettiamo un piccolo tassello piccolo nella speranza che sia soltanto il primo a tutelare la salute la sicurezza di questi ragazzi che fanno lavori rischiosi perché sappiamo tutti stanno in mezzo al traffico girano con mezzi leggeri biciclette motorini corrono perché a volte qualche secondo per loro può determinare la riuscita lavorativa di una giornata quindi noi oggi abbiamo fatto un piccolo passo nella tutela della sicurezza dei rider da un punto di vista del contratto lavorativo restano con il contratto che avevano fino adesso cioè non è che risolviamo il problema continuano a lavorare a cotti ma a partita iva e non certo come lavoratori subordinati abbiamo votato a favore siamo favorevoli a questo genere di interventi perché le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti e anche a fronte di nuove modalità di lavoro quello con piattaforme digitali ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità per esempio di tutela e della loro salute nella modalità differente in cui lavorano le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia ma anche per un modo di lavorare diverso sono molte il governo nazionale giusto che intervenga per creare omogenità ma ben venga laddove ci sono delle buone proposte che anche le regioni si attivino in tal senso da questo punto di vista con la ministra annunzia catalfo sono stati gettati i semi per molti e di questi progressi che devono essere fatto nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori sta a questo governo adesso riuscire a portarli avanti l'emendamento contestato appartiene già al passato il consiglio regionale ha abrogato l'integrazione alla legge 32 finito poi al centro dell'inchiesta che è o della procura di firenze che riguarda gli scarichi industriali delle concerie nel dettaglio oltre all'abrogazione dell'articolo 12 si sostituisce l'articolo 13 bis stabilendo che non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acqua e reflue a carattere prevalentemente industriale anche se di totale o parziale proprietà pubblica gli impianti se di proprietà pubblica possono essere concessi in uso agli attuali gestori previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari il presidente regionale eugenio giani ha sempre sostenuto la possibilità di cancellare l'emendamento perché di fatto è sempre stato ininfluente oggi prendo atto che con questa legge l'abrogazione ci sarà questo è un atto di grande maturità e responsabilità del consiglio regionale per l'abrogazione si è detto favorevole anche marco landi portavoce dell'opposizione che però ha affermato stiamo cercando di capire la razza di questo emendamento io rimango davvero contento dell'approvazione della proposta di legge che revoca quello che era l'emendamento che aveva costruito un percorso quantomeno nel profilo interpretativo che è stato poi oggetto di tante discussioni e che aveva messo il governo nelle condizioni di porre un rilievo alla corte costituzionale sulla competenza in questa materia ambientale di rilascio delle acque da parte del depuratore con competenza nazionale o invece con altri tipi di valutazioni ecco io quando mi sono reso conto che saremo andati alla corte costituzionale per questa decisione per questo conflitto di opinioni interpretative il 7 di luglio ho detto chiudiamo chiudiamo tagliando la testa al toro evitiamo che vi sia questo conflitto ma manteniamo il proprio più rigoroso di quello che sono le procedure che a livello nazionale sono state previste c'è una gerarchia delle fonti c'è bisogno di un chiaramento in casa pd perché abbiamo visto anche il segretario regionale bonafè che ha detto convocherà una direzione per parlare dell'argomento finalmente si sono svegliati finalmente si sono resi conti di questa problematica e l'affronteranno internamente anche perché mi sembra che dalle dichiarazioni dell'ex presidente rossi qualche cosa che non torna c'è innanzitutto noi dobbiamo ancora capire qual è stata la razza per cui quell'ammendamento è stato approvato perché ancora ad oggi non ce l'ha spiegato nessuno io oggi in aula come portavoce dell'opposizione ho chiesto che il presidente della commissione d'inchiesta appena nominata la consigliera l'amini audisca per per primo proprio l'ex presidente rossi perché ci venga a spiegare le motivazioni della razza politica perché noi non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta ma vogliamo capire politicamente qual era la razza di quell'ammendamento poi sarà la magistratura a dire se quell'ammendamento l'ha scritto pieroni l'ha scritto un privato l'ha scritto l'andrangheta ma noi vogliamo capire politicamente qual era la razza di quell'ammendamento in più c'è un fatto anche molto grave perché c'è sembra che emerga una concezione un po' privatistica della cosa pubblica da parte del pd e in particolare da parte dell'ex presidente rossi che oggi dichiara alla stampa e il presidente gianni mi doveva difendere mi doveva difendere in maniera più forte perché alla base del consenso grazie al quale lui è stato eletto c'è la giunta rossi